Il primo quesito che il Ministro per lo Sviluppo Economico Paolo Romani si è posto durante la sua visita a Matelica, dove si è recato anche negli stabilimenti della ex Antonio Merloni, ha riguardato l'incredibile vicenda della provincia di Macerata, dove, dopo solo due anni, si è costretti ad una nuova campagna elettorale. Il candidato del centro-destra e dei moderati alla presidenza, Franco Capponi, gli ha organizzato proprio nella città di Enrico Mattei un fittissimo giro di appuntamenti con incontri con le categorie produttive, le associazioni, i sindacati ed i sostenitori del Popolo delle Libertà. Un giro d'orizzonte veloce ma molto intenso, dove il Ministro ha avuto modo anche di farsi un'idea su alcune delle più stringenti problematiche del territorio. Oh Ministro, non so se conosce questo territorio, qui c'è una densità imprenditoriale altissima, un'impresa ogni 9 abitanti con infrastrutture scarse, un miracolo o come lo spiega? Un miracolo no, perché le Marche sono naturalmente una regione molto laboriosa, lo dico da Lombardo che è una regione altrettanto laboriosa, ma il deficit infrastrutturale che c'è qua c'è un pochino in tutto il Paese, quindi c'è soprattutto dove ci sono tante imprese. Il fatto che ci sia una tale densità di imprese depone a favore della qualità della vita, del benessere, dello sviluppo della regione. Dobbiamo finalmente, me ne sono accorto io venendo in macchina qua, dare una svolta all'infrastruttura della regione, perché penso che ci sia solamente, non solo un problema di strade, c'è un problema di autostrade, anche perché mi pare che anche l'Adriatica non sia messa in condizioni straordinarie, mi pare che c'è un problema di aeroporti, mi pare che c'è un problema di strade ferrate. Quindi è un problema infrastrutturale complessivo. Io ricordo solo sommessamente, come mi capita in questi casi, che noi saremmo in grado di dedicare tante risorse all'infrastruttura. Vi voglio ricordare che purtroppo noi ogni anno spendiamo 70 miliardi in conto interessi di euro, 140 mila miliardi di vecchie lire, perché dobbiamo pagare gli interessi del debito pubblico. Se avessimo a meno la metà di quelle risorse potremmo fare molte infrastrutture che oggi non facciamo. Le chiedo una cosa, lei è stato un pioniere dell'emittenza privata degli anni 70, lo ricordiamo tutti. Qui tra poco ci sarà il passaggio al digitale terrestre, come vede il futuro dell'emittenza privata schiacciato un po' tra i grandi network? Se ci sarà futuro. Il futuro c'è perché il digitale nelle aree del paese già digitalizzate ha fatto del bene a tutto il sistema, perché c'è finalmente certezza di frequenza, c'è finalmente certezza di visibilità e c'è la possibilità per tanti emittenti che fanno bene il loro mestiere di fare tanti canali digitali, sicuramente le grandi imprese televisive ma anche le piccole. Dopodiché il passaggio per le aree vostre è leggermente complicato dal fatto, ma mi sto occupando, lo dico perché tanto ci saranno polemiche su questo argomento, perché avete i paesi confinanti tipo la Croazia che arrivano da queste parti con segnali di interferenza e io sono, mi pare, in Croazia entro un mese per risolvere con i croati questo problema. Il modello economico matelicese è valido ed occorre rilanciarlo, ha detto Franco Capone, il quale si avvicina con grande fiducia all'appuntamento elettorale di domenica e lunedì prossimi. Un incontro molto interessante, parliamo anzitutto del decreto sviluppo, quali cadute può avere sul nostro territorio, Franco? Ci sono delle cose interessantissime, il Ministro Romani ci ha illustrato la soluzione che per esempio è stata data alle concessioni demaniali delle nostre spiagge per i gestori, i bagnini e anche per le aree portuali che avevano una scadenza e erano soggetti alla Bolkestein, cioè all'obbligo di gara. In questo caso c'è una proposta di prolungamento delle concessioni addirittura fino a 90 anni e penso che questo possa consentire di rasserenare il sistema e anche pensare a investimenti di grande interesse per rafforzare l'offerta turistica dell'agosta. Diciamo poi, interessantissimo per la nostra realtà della presenza nel territorio della provincia dell'Università è il decreto sui fondi per la ricerca. Questi fondi per la ricerca vengono indirizzati sempre più al collegamento tra l'impresa e l'università. Noi abbiamo due carenze, le imprese ricorrono poco alla ricerca universitaria e ugualmente abbiamo le università invece che sono poco interessate ancora a mettersi in collegamento con la realtà imprenditoriale locale. Questo decreto a mio avviso ci aiuterà a far ritornare anche quella produttività e anche quella qualità dell'alta formazione che magari in questi anni si è un po' subita in tutto il sistema universitario italiano e purtroppo anche nel nostro. E poi ci sono tante altre cose, cioè la possibilità di dire ad esempio che il quadrilatero proseguirà con speditezza e quindi i finanziamenti del Cibie verranno erogati regolarmente. Abbiamo degli altri segnali molto positivi e rassicuranti come quello del quinto conto energia che mette un po' a sistema tutto il mondo delle energie rinnovabili. L'industria di questo settore, gli installatori ma anche gli investitori chiedevano una norma di lungo periodo. Questa norma c'è, questa norma è concreta perché il decreto è stato pubblicato e quindi c'è per il settore grande prospettiva sicurezza di investimenti, sicurezza anche per il futuro dato l'incertezza che i precedenti conti energia avevano generato. Quindi una soluzione positiva, il territorio di questa provincia ne beneficerà molto, sono condizioni oltre quelle della semplificazione, oltre quelle degli interventi sul piano casa per un'accelerazione delle procedure, oltre quelle cose che tra l'altro dovremmo poi mettere a rete anche noi tra comuni, SUAP, i sportelli unici per accelerare le procedure e eliminare la burocrazia. Però stiamo sulla strada giusta, stiamo andando nella giusta direzione per un rilancio di questo modello. L'incontro con le categorie è una battuta, sostegno alle piccole e medie imprese, tutela del Made in Italy, energie rinnovabili assomiglia molto al tuo programma. Il nostro programma era un programma reale, le avevo detto, e alcune di quelle cose che magari potevano sembrare indefinite con questi decreti si sono completate, sono state liberate quelle risorse, addirittura quelle del FAS, che è per noi importantissimo perché riguarda delle opere infrastrutturali minori, non riguarda certamente la quadrilatero, ma i nodi del traffico di questa provincia possono essere risolti anche con i 16 milioni di euro che verranno liberati con questo decreto. Posso dire che inoltre sul concetto di semplificazione noi avevamo avviato un bel programma, eravamo già un bel po' avanti, Brunetta è venuto qua a certificare che avevamo fatto dei passi da gigante. anche tutto il discorso delle riassicurazioni al sistema delle imprese attraverso i confidi il Ministro ci ha, diciamo così, confortato anche istituendo un fondo nazionale che supporta il sistema confidi come controgaranzia e poi una certificazione di buon percorso, quello nostro, per la scelta che abbiamo fatto per esempio di sostenere la creazione di nuove imprese giovani e donna e inoltre questo metodo che ci siamo un po' inventati sulla scia di quello che sta avvenendo in Germania di aiutare i giovani a entrare immediatamente nel mondo del lavoro appena escono dai rispettivi corsi di alta formazione universitaria o superiori con gli ITS che immettono direttamente con una specializzazione nelle imprese ma anche con i progetti di ricerca riservati a laureati e a imprese che fanno uno specifico accordo diciamo per portare avanti dentro l'azienda l'innovazione e su questo insomma andiamo a progredire, ritengo che anche ci sia stato un avallo anche del sindacato sulla nostra strategia, lo è stato quando abbiamo approvato il piano generale sviluppo della provincia con un voto all'unanimità e anche con una grande attenzione a questo movimento che abbiamo creato in questa provincia di grande responsabilità e di grande corresponsabilità della politica, dell'impresa, delle famiglie, del mondo del lavoro, dell'università e dell'istruzione della formazione. Temissima cosa, Mara Garfagna Sabato, oggi Alfredo Mantovano e Paolo Romani, Angelino Alfano concluderà probabilmente la tua campagna elettorale quindi c'è un pieno appoggio insomma del governo a questa tua candidatura. Sì, Macerata è tornata al centro perché Macerata è un modello per noi e anche per il governo nazionale, certamente noi non condividiamo il modello Ancona che ci propone la sinistra, è un modello che ci ha rapinato molto sia sul sistema sociosanitario, sistema universitario che è stato fatto calare gradatamente senza il sostegno di una regione forte che guardasse a questo patrimonio universitario come strategia di sviluppo, non abbiamo un treno Eurostar che ferma in questa provincia, abbiamo avuto meno fondi del FAS e molti meno fondi dei fondi comunitari del POR sullo sviluppo, però ce l'abbiamo fatta uguale, questa è la provincia che ha il PIL che cresce, che ha occupazione in recupero e che pensiamo possa dare uno stimolo a tutta la regione, il buon governo, la buona politica, meno palazzo, più piazza, più fabbrica, più azienda, più impresa, più famiglia.